Il trend è un trend importante, la filiera, quella che noi chiamiamo la filiera dell'Oil & Gas ha fatturato 65 miliardi di euro, ha, mi pare di ricordare, più di 40.000 persone che lavorano all'interno della filiera e sporta più del 92-94% del proprio fatturato. È una realtà molto importante che in qualche modo per il momento riesce comunque a svilupparsi grazie alla tecnologia, grazie alle competenze, grazie alla capacità delle persone che lei vede anche qua dietro di me perché, lo ripeto, l'ho già detto all'inizio, l'Italia sul manifatturiero è sicuramente una nazione estremamente importante. Pertanto le nostre imprese sempre di più sono anche capaci di imporsi all'estero e qualche giorno fa diceva un collega non riesco a capire come facciamo a concorrere rispetto ai cinesi che hanno un costo orario che è 10 volte inferiore al nostro e noi riusciamo a concorrere proprio per la nostra capacità di fare e per le nostre competenze che sono un punto essenziale della filiera italiana e delle nostre imprese.